Una bocciatura netta, senza appello. I comitati che da anni si battono a difesa degli ospedali del territorio dichiarano guerra alla direzione generale della SST Sette Laghi. Lo fanno nel corso di una serata nella quale il disagio esplode sotto forma di rivendicazioni e proteste mirate. La sala del De Filippi è gremita di gente comune, ma anche di medici e infermieri. Si scorgono volti in arrivo da Angera e da Tardate, ospedali che oggi rientrano sotto lo stesso cappello, quello dell'azienda di Varese. Ma al centro dell'attenzione ci sono le due realtà del capoluogo, il del ponte e il circolo. Sul primo Emanuela Crivellaro va dritta al sodo. Sono passati quasi 12 anni dall'avvio del polo materno infantile, ma il completamento somiglia ad un miraggio. Reparti ancora vuoti, organici risicati, strutture che mancano all'appello e altre che non dovrebbero esserci più e che invece incombono, senza contare i pericoli dovuti alle tante incompiute. L'ospedale del Ponte in particolare sono 11 anni che è partito e dopo 11 anni ci chiediamo come sia possibile che ancora il nuovo padiglione, inaugurato l'anno scorso ma finito alla fine del 2015, sia ancora mezzo vuoto. A fatica è stata inaugurata e aperta la neuropsichiatria infantile. La terapia intensiva ancora non c'è, pur essendoci la chirurgia pediatrica che non può ovviamente fare certe operazioni proprio perché manca un reparto fondamentale come la terapia intensiva. La diagnostica è ancora vuota, il pronto soccorso pediatrico che sono proprio i motivi per i quali l'ospedale del Ponte è stato realizzato. Per non parlare della terza fase di lavori, che ancora non è stata nemmeno finanziata. Musica ugualmente stonata a quella di Giorgio Arca, di Noi per l'ospedale. Il circolo sta perdendo pezzi, afferma. L'addio del professor Boni è stato solo il primo eclatante sintomo di una qualità che va sgretolandosi e che preferisce fare le valigie e lasciare Varese pur di non restare in un'azienda a corto di prospettive. Parentesi drammatica quella delle pesanti ricadute sui fragili in calza arca, il quale cita i disservizi a scapito dei pazienti diabetici e le condizioni critiche della nefrologia, riservando un plauso al personale infermieristico a cui va riconosciuta una strenua e ammirevole resistenza. La direzione generale, benché invitata, ha preferito non presentarsi, chiariscono gli organizzatori, mentre a prendere posto nelle vesti di relatori sono alcuni dei consiglieri regionali che compongono la Commissione Sanità, a cominciare dal Presidente Emanuele Monti che è ben conscio delle criticità ma confida in una forte accelerazione del governo Fontana. Assolutamente l'intenzione è quella di andare a chiudere le cose, poi se ci sono dei ritardi, se ci sono degli elementi, delle lungaggini, queste sono spesso e me anche normali nella pubblica amministrazione, è importante che le cose vadano avanti e si portino a compimento. Ecco, la buona politica deve essere lì a indicare la direzione dove andare e vigilare per cui tutto avvenga nei modi corretti e avvenga nei tempi corretti. Con lui, ma nel pubblico, il collega di partito Marco Colombo che in Consiglio regionale si occupa di bilancio e che conosce molto bene la questione dei conti legati alla sanità. Dall'opposizione il PD Samuele Astuti e il 5 Stelle Marco Fumagalli. Il primo è drastico, l'eccellenza lombarda non è che un lontano ricordo, 30 anni di centrodestra ne hanno minato le qualità. Pensate che in Italia e anche in Lombardia un bambino su quattro è costretto a essere ricoverato in un ospedale per adulti e non in un ospedale pediatrico. Bisogna fare di più, al Del Ponte si può fare di più perché negli anni di promesse ne sono state fatte tanti. Dall'esponente pentastellato un affondo contro la politicizzazione dei manager e una proposta, estendere alla sanità la logica del bilancio partecipativo così che le comunità locali ritrovino voce in capitolo. Senza ombre di dubbio la grossa responsabilità quando ci sono dei rallentamenti è nell'ambito del management. Il management risponde poi alla regione Lombardia, alla giunta, quindi inevitabilmente deve essere individuato in questi due soggetti il responsabile dei rallentamenti e di conseguenza si deve operare per arrivare al raggiungimento del risultato dell'obiettivo che è dare un servizio come si deve ai cittadini. A margine una nostra riflessione. Quando si parla di una priorità assoluta come la salute pubblica la strategia non può essere ridotta alla sola disponibilità di denaro. Occorre prima di tutto la volontà di decidere sul ponte, sulla vocazione del circolo, sul futuro di Quasso, sulle prospettive di Tardate, Angera, Luine, Cittiglio, su tempi e modalità dell'ospedale unico di Buste Gallarate. Serve insomma una visione e serve un'assunzione di responsabilità. Varese vuole sapere una volta per tutte su cosa scommetterà, dove verranno convogliati gli sforzi e a cosa di conseguenza bisognerà rinunciare perché a furia di annunciare tutto si rischia di non combinare niente. Il tempo delle promesse si è definitivamente esaurito, ora è il momento delle scelte.